Omicidio colposo e l'ipotesi di reato iscritta dal procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, nel caso di Andrea Soldi, il malato di schizofrenia, morto in ospedale a Torino il 5 agosto scorso dopo un ricovero per un trattamento sanitario obbligatorio. Infatti Soldi era stato ricoverato perché stava dando in escandescenza in una piazza del capologo piemontese. Era stato portato in ospedale nonostante la sua opposizione dopo l'autorizzazione del medico di turno. Secondo delle registrazioni tra la centrale operativa e l'ambulanza acquisite dai carabinieri del NAS, gli infermieri spiegano alla centrale che i vigili avrebbero fatto un intervento un po' invasivo perché avrebbero preso i soldi per il collo e l'hanno un po' soffocato. Soldi era stato poi caricato a pange in giù ammanettato per evitare che potesse fare violenze, perciò nessuno si è accorto che aveva bisogno di essere rianimato. Ovviamente la dinamica molto complessa sarà ricostruita nelle prossime settimane, ma il Ministero della Salute ha già inviato degli ispettori in Piemonte per capire come riscrivere le regole sui TSO, i trattamenti sanitari obbligatori. Per adesso ci sono quattro persone indagate, tre vigili urbani e il medico che ha autorizzato il ricovero.